Ciao, sono Paolo Valci e vi presento questo van veramente con caratteristiche particolarissime, un Weissberg 6 e 30, ma cos'è? Un camper da quattro posti con un grandissimo garage, andiamo a vederlo. Porta con zanzariera, vedete che l'accesso è molto funzionale e comodo, una bellissima zona giorno, guardate, uno, due, tre e quattro, il tavolo che si allarga, finestra e vedete le finiture, questa bella tappezzeria molto funzionale e comoda. Qua hanno sfruttato per un contenitore, guardate che capacità sia sopra la cabina che questo enorme pensile, sia per qui che nelle varie mensoline. E ora vi faccio vedere il letto, vedete il letto è grande perché poi vi faccio vedere la sorpresa che c'è un garage esagerato. Il letto eccolo qua, allora questo è un letto che per lungo si può dormire o benissimo in due, ma anche in tre. Quindi guardate com'è grande, cioè qui proprio veramente una piazza d'armi come si dice. Oblò e vari contenitori, sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. Questa è la protezione per bambini in caso essendoci la finestra. La quarta persona può venire in questo letto qui, abbassando il tavolo, agganciandolo sulla parte inferiore, quindi facendo più largo sulla parte sinistra e più stretto sulla parte destra. Andiamo a vedere la cucina. Lavello, due fuochi, piano d'appoggio, un enorme pensile e anche questa mensola ha una bellissima battuta per cui ci potete mettere veramente tante cose. Cassetto, altro cassetto e un altro contenitore. Poi frigorifero, qui uno spazio diciamo armadio, ma secondo me il garage qui deve essere usato per armadio. Poi una mensolina facile a buttare giù. Come vedete c'è il collegamento nel quindi il garage può essere sfruttato in più cose anche da armadio perché a mio avviso oltre tutte le vostre cose che qui o dal lavoro se avete tante cose da lavoro oppure dal lavoro e sport oppure da sport che potete permettervi qualsiasi cosa. Qui motociclette, biciclette, surf, qualsiasi cosa potete vedere è già predisposto sia con i ganci in basso che con i ganci in alto per poterli bloccare. Qua la centralina e qua dei contenitori. Qui le misure di questo enorme garage. Poi l'apertura come sempre è dall'esterno quindi accesso potete, è veramente un mondo. Il bagno, il bagno c'ha un bel lavandino, la finestra, contenitori e altro contenitore, uno, due, tre. Poi per fare la doccia ci sono i ganci quindi questo, c'è la tenda che gira in tutto intorno e questo è l'ingotto. ombro per poter fare la doccia. Come vedete mi muovo bene. Poi qui il water. Volete un van con un garage enorme per i vostri sport e per il vostro lavoro? Questo è il campo ideale perché ci si sta benissimo in due, bene in tre ma anche in quattro. Chiamateci e venitelo a vedere perché vi possiamo offrire la nostra consulenza per meglio farvi acquistare il camper per le vostre vacanze e lavoro e per la vostra famiglia. Libertà di scelta è il nostro motto per poter confrontare i tanti camper che abbiamo in esposizione. e come sempre a ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!